Cosa vi dite di un buy-in di mille metri raw seguito da 3 round 4 time di 10x2 kettlebell deadlift e 10 burpees box jump over il tutto 4 time? Perché questo è esattamente quello che dovremo fare oggi, mercoledì 10 aprile. È tutto grafica qui con scalature e pesi, noi ci vediamo domani per il Team World del giovedì.